Mia moglie è incinta, si aspetta il vieto evento. Io adesso vorrei sapere che te ne importa la gente se mia moglie è rimasta incinta prima del matrimonio o dopo. Certe cose succedono indipendentemente dalla nostra volontà, può capitare a chiunque un fatto naturale. Quattro mesi fa ci fu un consiglio di famiglia per stabilire come ci dovevamo regolare con gli amici, con i pareti, di fronte a questo fatto nuovo che era accaduto. E io pensai che nessuno avrebbe avuto interesse di approfondire il fatto, volendo stabilire che so io il mese, il giorno, l'orario. Anzi fu proprio mia socia che dice, va bene, non è la fine del mondo, non è la prima volta che succede un fatto del genere. Vuol dire che quando nascerà la bambina o il bambino diremmo che si è trattato di un settimino. E il medico, ricordate, il professor, disse che non potevamo rimediare con il settimino perché Gigliolo è incinta di cinque mesi. E dice, come? Ah, mia socia, sa, donna di mondo, subito. Dice, va bene, vuol dire, c'è il parto prematuro. Ah, su, parto prematuro, parto prematuro, si stabilì, parto prematuro. Adesso, con tutto che la cosa si tende segreta, con tutti, con gli amici, con i parenti più intimi, già mi arrivano lettere anonime di ogni genio, ma continuamente, due volte in una settimana pure. La lettere viene di insulti, di tanti auguri per il prematuro lieto evento, prematuro sottolineato, come per dire prematuro. Però, disegno scemi, perché è veramente la cosa più squalida, perché uno lascia una lettera sull'anomobile, se la dimentica, per le donne di casa, la persona di servizio. E questo l'ho ricevuto proprio uscendo di casa, ma la voglio far sentire, perché è cosa da pazzo. Sentite, sentite, mentre ci congratuliamo ancora una volta per la riuscita manifestazione delle vostre nozze avvenute cinque mesi fa, vi facciamo tanti auguri per la nascita dell'erede che fra cinque, sei giorni si dovrà verificare. E sentite come conclude, sentite, eh? Canisciune e fesse. Adesso io mi domando, è vero, perché c'è tanta gente a paura di rimanere fesse per tutta la vita se finge di ignorare un fatto così naturale come quello che è successo a me, insomma, è una cosa semplice, e pensa invece di togliersi di dosso la fessaggine inviando una lettera anonima di questo genere. Sembra fesse resto, non è che la cosa cambia. Ma la laurea non è che un peccato.